Ciao e bentornati in questo nuovo video. Oggi dalla webcam perché c'è una sclerata da fare come fu quella di Halloween Kills e quindi dobbiamo rimanere fedeli a certe tradizioni. Alcuni prodotti non si meritano neanche il faro, poi siamo... Luglio fa caldissimo col faro addosso per smadonnare, quindi già avrò caldo, per favore. Sto scrivendo il saga horror su Resident Evil, quindi ho dovuto fare il rewatch di tutto, film di Anderson, Welcome to Raccoon City, film in CGI e è uscita questa magnifica serie Netflix che mi distrugge. Ci ho messo due settimane e mezzo a vedere otto episodi. Terribili, agghiaccianti, ma non è questo il punto. Perché le recensioni che gli hanno detto bene gli hanno dato 5 su 10. Quindi immaginate... Cioè non è brutto. È una nave di merda. È un bambino che ti strappa i coglioni mentre dormi. Con le pinzette. Cioè, io non pensavo che comunque Netflix, che ok, non fa sempre grandi cose, però potesse arrivare a tanto. Ho sentito alcuni coraggiosi dire, eh questa serie è brutta perché non c'entra col gioco. Raga, fosse quello il problema? Anzi, quando tenta di arrivare in zona videogioco, fa peggio, fa pe... Ma magari non ci fosse centrato nulla col gioco. Forse sarebbe stato un banale prodotto insufficiente. Invece così siamo proprio livello Asylum. Vi basti pensare che i primi 10 minuti, che dovrebbe essere il biglietto da visita che ti convince poi a vedere la serie, sono tra i più brutti che abbiamo visto in una serie. Ma andiamo per gradi perché la merda al sole si secca, non si scioglie. E noi dobbiamo seccarci, cristallizzare questa cosa in onore della serie. Non dobbiamo scioglierci via. Mamma mia, allora... Inizia con la protagonista nel post-apocalittico a Londra. Ora, la protagonista di questa serie è antipatica, egoista, stupida fino al midollo, istintiva ma proprio nel prendere scelte sbagliate. Lei prende solo scelte sbagliate dall'inizio, alla fine. E proprio vuoi che faccia una brutta fine, che finisca tra le mascelle di qualche zombie, che qui vengono chiamati Zero. Non si sa bene perché. Però, vabbè. C'è questa protagonista che, tua e moia, ma fa una videochiamata col suo amor. Ora, lei, come vi ho già detto, è nel post-apocalittico, nelle macerie, in questa città che distrutta. Però, fa queste chiamate in 4K, bellissime, perfette, con questo tablet che emana luce al punto tale che va a sfocare i bordi dello schermo. Una cosa posticcia, orribile. Dopodiché, fa... Quando finisce questa chiamata col suo amor, fa degli esperimenti sugli zombie. Gli Zero. Si chiamano così, non so perché. Lei ha un coniglietto, un leprotto. Gli fa un bocchino, così esce il sangue, e lo libera negli zombie. Ora, lei vede che questi zombie non riescono a prendere il coniglio. E il coniglio scappa. Sei nel post-apocalittico, hai una risorsa importantissima, qual è un coniglio, la usi per fare esperimenti e poi lo lasci anche scappare, chi si è visto, si è visto. Oddio. Lei, poi, si ferirà. Si ferirà perché, cogliona, quindi, alzandosi si farà un taglio da qualche parte. Gli zombie la fiuteranno, correranno verso di lei. Lei scappa. Ce l'esce, comunque, tutto completamente idiota. Viene buttata giù da uno zombie. E mentre combatte con questo zombie, gli altri non è che l'aggrediscono, no? Stanno lì e guardano così. Questo è. I primi dieci minuti sono così. Quelli che dovrebbero essere il bigliettino da visita sono una merda. Incredibile. E da qui in avanti peggiorerà solo. Questo virus, il virus T, produce delle mutazioni. Non si sa che mutazioni, non si sa come, non si sa se ha delle varianti. Anche nei film di Anderson, l'avevamo detto, e in Welcome to Recon City, dicono che sì, c'è un virus di riferimento, però varia, sai, a seconda del soggetto cambia, ci sono esperimenti, c'è uno che se lo inietta, diventa un mezzo mostro, c'è Birkin, no? Succedono cose. Qui no. Qui c'è il virus T, produce zombie, produce bruchi che diventano gli otto metri, produce coccodrilli giganti, produce i leaker, così. Cioè, non è che ti spiegano, sai, e anche qui, io non riesco a fare un paragone tra un film e un gioco, perché nel gioco ci sta, nonostante lì te lo spieghi, no? Però pure se non l'avessero fatto ci sta, perché alla fine devi sparare, devi scappare, devi risolvere gli indovinelli, ok? In un film me li devi spiegare queste cose. Io non riesco a fare un paragone tra un film e un gioco, perché per me sono due cose completamente diverse, è come se mi dicessi, paragoniamo questa bottiglia d'acqua a questa penna. Cioè, come fai? Quali sono i punti che possono avere in comune, capito? La narrazione in un gioco e la narrazione in un film sono completamente diverse. L'estetica in un gioco e l'estetica in un film, completamente diverse. Ed è il motivo per cui qui, quando iniziano a citare il gioco, proprio la mandano di fuori, e finiscono a far esplodere il disastro. Questa serie, però, è stata molto criticata per un personaggio in particolare, Albert Wesker, che è rappresentato all'interno dei videogiochi, e anche purtroppo nei film di Anderson, come un cretino. Cioè, praticamente uno, che sembra una patata, alto così, tutto muscoloso, così fiero, con la gelata all'indietro bionda platino, e gli occhiali da sole pure di notte nei boschi. Un cretino. Cioè, uno che in un gioco ci sta, in un film ridi. Infatti, nei film di Anderson, quando si vedeva Wesker, io ridevo, perché non lo potevo prendere sul serio in un contesto reale. Qui hanno deciso di fare un personaggio vero, però l'hanno fatto completamente diverso, e questo tizio, alto, nero, pelato, che è un bravissimo attore, ed è forse la cosa migliore della serie. Perché il resto è livello Asylum. Quindi la sua interpretazione, lui, è forse la cosa migliore. Perché, a un certo punto, si scopre anche, andando avanti, che lui ha dei cloni, in una scena imbarazzante, dove ci sono... C'è lui, c'è un altro lui, poi c'è un altro lui ancora, dopo c'è un altro lui, che però è il Wesker, con gli occhiali da sole, i capelli, e l'impermeabile che sembra Blade. E tu ridi, ridi, perché non la puoi prendere sul serio. Cioè, fa proprio ridere tanto questa cosa. Almeno, se ho strappato una risata. Anderson si prendeva anche sul serio quando si faceva vedere Wesker, che sembrava uscito da una linea di parrucchieri non particolarmente brillanti. Lui dà una buona interpretazione a un personaggio che però non ha senso di esistere, perché è scritto male. E ha queste due figlie. Ci sono le figlie di Wesker, di cui una è la protagonista Rompicazzo. L'altra figlia, anche, è completamente scema. Però viene più vista quella Rambo, che sta lì a fare gli esperimenti insieme agli zombie. Ora, il problema qual è? Che la serie tenta, inutilmente, per tutto il tempo, di fare dei drammi familiari. Cioè, questo continua avanti e indietro nel tempo. Quindi, prima dell'Apocalisse, dopo dell'Apocalisse, dove si vedono queste due figlie piccole e poi queste due figlie grandi, piccole, grandi, piccole, grandi. Quando sono piccole? Poverine. Loro sanno, dopo un po', che questo padre, Albert Wesker, gli nasconde qualcosa che potrebbe porre fine al mondo. Abitano in una città che si chiama New Recon City, perché scoprono che la vecchia Recon City è esplosa con una bomba che è stata nuclearizzata per cancellare tutte le prove. E lo scoprono perché un giornalista, che poi scompare nel nulla, al quale è stato dato un PDF da non si sa bene chi, viene a scoprire che Recon City è stato intenzionale, non un incidente. mamma mia che monnezza, tutto sbagliato. E loro sono sempre a dire papà mi ha mentito, papà ma... sta per finire il mondo! Stanno per morire tutti! e tu sei là a fare la bimba minchia a dire papà mi ha mentito, oddio, e mo? e mo? papà mi ha mentito? Stanno per morire sei miliardi di persone e tu sei là e oddio il rapporto tra padre e figlia che viene compromesso! Ma vaffanculo tu! I tuoi sentimenti, quello che... buttati da un ponte per favore fallo in fretta! Questo personaggio, anzi questi personaggi, perché tutte e due le figlie sono sceme, io non so chi sia stato l'essere a cui è venuta in mente questa roba, forse non lo so, lo stesso che ha avuto in mente che 13 come serie potesse essere una buona idea, una serie che offende tutte le persone che soffrono di depressione, che offende tutte le persone che hanno subito bullismo, che offende tutte le persone che hanno subito stupro, che hanno subito abusi, le offende tutte, trattando il suicidio come il capriccio di una ragazzina appunto capricciosa. E allora, allo stesso modo, la serie di Resident Evil tratta gli argomenti familiari in modo stupido, capriccioso e bambinesco, sia lato adulti che lato ragazzini. E questo è un problema. Io vi dicevo che quando iniziano a prendere gli elementi dal gioco fanno peggio. Ecco. Madonna! Allora, sono tutti cloni, questi neri altissimi, bellissimi, di Wesker. Ora, il Wesker originale non viene visto, perché viene detto che è morto in un vulcano. Ora, noi lo sappiamo se abbiamo giocato a Resident Evil 5, cioè è un riferimento, però non ha senso. Viene fatta vedere Lisa Trevor per due secondi in un tape d'archivio, ma non ha senso. Cosa che io avevo criticato anche in, scusate, Welcome to Recon City, che ti presenta Lisa Trevor che ha un ruolo molto più importante, un minimo viene spiegata, si vede anche una cartella clinica, però comunque era un po' pochino. Chi aveva giocato il gioco capiva, ma essendo che il film e il gioco sono due cose diverse, non posso dire lo capisci se hai giocato il gioco, che logica è, ok? Qui, ancora meno. E io avevo apprezzato Welcome to Recon City, c'è un video di cui non mi rimangio nulla sul mio canale e credo sia l'adattamento migliore di Resident Evil. Qui Lisa Trevor è in nulla. Ed è un personaggio del tutto opzionale, non devi mettercelo per forza, quindi perché metterlo per fare danni? La parte di Wesker con gli occhialoni all'impermeabile è a dir poco comica, non c'è un altro modo per definirla, e in generale ogni volta che tentano di agganciarsi al gioco, anche quando ci sono degli indovinelli, bisogna suonare una canzone precisa ad un pianoforte che non serve a nulla, perché c'era un tasto rotto con un bigliettino fin da prima, quindi perché devi cantare una canzone precisa non ha senso, è tutto sbagliato, è tutto sbagliato. Vuoi fare un'altra cosa? Ti serve la proprietà intellettuale di Resident Evil solo per alcuni elementi? Ok, prendi quelli e poi fai altro. Non cercare di andare a imitare un gioco di cui o non sai niente o non hai idea di come integrarlo, non lo integrare. Lascia perdere, lascia stare, non c'è bisogno, veramente, dal profondo del cuore dico, lascia perdere. Avete prodotto il peggior adattamento in serie, video l'unico della storia. Ma roba che, ma io sono sincero quando vi vengo a dire che l'adattamento di Super Mario, quello trashissimo, è molto più bello, perché è colorato, è divertente, è trash, è molto meglio quello. Questo qui si prende anche sul serio quando dice le sue cagate, quando ci sono i suoi dialoghi improponibili, i suoi personaggi tagliati con l'accetta. A un certo punto si vede, e pensavo avesse un ruolo importante, perché la protagonista finisce insieme a un tizio di Umbrella, che è un tizio che sembra Jack Black, che lui deve sopravvivere perché deve tornare a casa dai suoi cani e poi muore, giustamente, ma una cosa che tu dici, ma perché? Perché hanno scritto questa roba così? finiscono nel covo di un santone, uno che sta creando una specie di culto, dicendo che c'è l'apocalisse, Dio ha creato l'apocalisse, se menate qua di gente pazza. Ora, io pensavo che avessero un ruolo importante questi. Durano 20 minuti, la situazione va fuori controllo, gli zombie se li mangiano tutti fine. Cioè, questo è. Vediamo, però, che c'è il l'omino con la motosega di Resident Evil 4 e 5, per chi non lo sapesse, in quei videogiochi c'è un uomo con una motosega con un sacco in testa che è il character design del personaggio, cioè così perché è inquietante. E purtroppo anche Anderson l'ha messo nel suo film senza motivo. Perché è un, finché è un gioco è character design, è un boss da sconfiggere, ok, ma se è un film tu mi devi spiegare perché c'è questo tizio con una cosa in testa, con delle armi enormi, tu mi devi spiegare perché c'è questo tizio col sacco di juta che gli copre gli occhi e la motosega, perché non è come gli altri, Cristo, me lo devi spiegare, in un film devi spiegare le cose, in un gioco non per forza. E questa è anche la grande differenza. Io non so, tuttora, perché in questa serie c'era Wesker che sembrava Blade. Non lo so, non lo so, sopra o mai. Nei film di Anderson anche ci sono cose che fanno buttare dalle risate. Ve l'ho detto, c'è Wesker fatto uguale che nel mondo vero non è credibile in alcun modo e tu ridi. Cioè, Leon, Leon Kennedy nei film di Anderson è fedele da un punto di vista di character design, ma ridi, perché vedi questo coglione di un metro e novanta muscoloso col caschetto grigio e ridi. Perché l'unica cosa che puoi fare è ridere. Va bene in un videogioco con il character design fatto dai giapponesi che fanno questi personaggi molto sopra le righe quando devono fare gli occidentali, ma in un film no. È molto meglio l'ispanico di Welcome to Dragon City perché almeno è vero. Cioè, è una persona vera che tu potresti incontrare nella vita. Invece, di questo cretino di un metro e novanta ho caschetto grigio è una cosa oscena. Qui io non saprò mai perché c'è Wesker Blade. Boh, perché? Che ne so. E questo Wesker che in realtà è un clone del Wesker originale che è finito nel vulcano e ve l'ho già detto ha delle figlie ma queste figlie le ha create perché aveva bisogno del loro sangue da iniettarsi costantemente per una malattia di cui soffre. Ora, questa cosa viene scoperta ma non è che lui è un padre degenero che le picchia le tiene legate in uno scantinato per prelevare il sangue. No. Assolutamente no. però loro ci sta che quando lo scoprono che loro in realtà sono nate per quello poi sono state trattate come figlie amate eccetera ci rimangono un po' male però dicono no è finito il rapporto con il nostro padre e lui ci ha fatto nascere solo perché aveva quella malattia e quindi è finito il rapporto e c'è un clone che dopo un po' gli dice e quindi? Ed è la luce della ragione questi drammi adolescenziali completamente fuori contesto con il mondo che finisce e a proposito di mondo che finisce il mondo è finito ci sono poche comunità di umani pochi milioni di umani sparsi in giro per il mondo e nonostante questo l'ambrella deve tenere i suoi segreti nascosti altrimenti potrebbe fallire ragazzi il mondo è finito che cazzo di segreti deve tenere nascosta l'ambrella? da chi? il mondo è finito cioè ignorano completamente questa cosa ti stanno raccontando un mondo post apocalittico ma fanno finta che comunque ci sia ancora un'organizzazione sociale precisa con l'ambrella che fa le sue cosine cioè il mondo è finito che cazzo dite? questo video non è preparato non lo era ma penso che fosse l'unico modo terapeutico da parte mia di dirvi cosa ne penso di questa serie è imbarazzante sotto tutti i punti di vista ed è la prima volta forse in questo momento che io mi auguro che non faccia una seconda stagione perché anche quando una cosa è orribile io sono sempre curioso di sapere dove va a parare ma stavolta no basta basta sui dizionari questa roba c'ha 3 su 10 i recensori buoni gli hanno dato 5 poi c'è qualche coraggioso che gli ha dato anche 6-7 ma pochissimi nel mondo quando è uscito Welcome to Recon City a me era piaciuto a diversi recensori in realtà era piaciuto però il pubblico era proprio diviso in due tra chi lo considerava un buon prodotto e chi lo considerava la merda fondamentalmente qui non esiste chi lo considera buono quindi non so non so se vogliano fare una seconda stagione se volessero fare una seconda stagione dove dovrebbero agganciarsi perché l'ultimo episodio non finisce neanche cioè non c'è un arco narrativo che viene chiuso e poi si va avanti capito quindi boh signori evitate questa merda grazie a tutti grazie a tutti